Il Collegio dei Revisori dei Conti ci ha dato ragione, ci troviamo di fronte a consuntivi falsati da raggiri contabili, da entrate sovradimensionate e anche al fine di non rappresentare la reale situazione dei conti del Comune di Salerno per camuffare il dissesto. Così questa mattina il capogruppo di Forza Italia, Palazzo di Città, Roberto Celano, nel corso di una conferenza stampa presso i gruppi consigliari per denunciare le criticità delle finanze del Comune di Salerno. Un incontro dell'opposizione che ha registrato la presenza anche del consigliere comunale della Lega Dante Santoro e di Mimmo Ventura di Fratelli d'Italia. E' proprio da una sollecitazione del consigliere Roberto Celano che il Collegio dei Revisori dei Conti ha invitato l'ente di Via Roma a rivedere e rettificare alcune voci del bilancio consuntivo, rettifiche contabili da tener conto anche nel redigendo bilancio di previsione del triennio 2023-2025, da portare all'attenzione e all'approvazione del consiglio comunale entro il prossimo 31 luglio. Tra alcune voci compare la vendita dell'ex procura di Viera Fastia e i terreni da espropriare per la realizzazione del nuovo ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. La responsabilità è del sindaco addetto Roberto Celano chiedendo le dimissioni del primo cittadino Vincenzo Napoli. I visori dei Conti ci abbiano dato ragione dopo aver espresso purtroppo il parere favorevole al condo consuntivo si sono resi conto che sono state inserite entrate che non potevano essere accertate e che quindi ci troviamo di fronte a consuntivi falsi, falsati da reggiri contabili, da entrate sovradimensionate anche al fine di non rappresentare la reale situazione dei conti dell'ente e di mascherare probabilmente il dissesto forraggiando e continuando per continuare a foraggiare sacche di clientele che stanno portando la città davvero in una condizione di degrado, di default e con i salernitani tartassati da una tassazione insostenibile. Stamattina la denuncia nel corso di una conferenza stampa dell'opposizione cosa cambia? Cambia che noi abbiamo evidenziato che solo per le entrate di cui ci siamo resi conto ci sono oltre 16 milioni di entrate in più che sono state inserite illegittimamente nel condo consuntivo. Quindi quella rata del piano di rientro che avevamo concordato con la presidenza del Consiglio non è ripianata per 7 milioni, anzi abbiamo un ulteriore disavanzo e noi chiediamo l'intervento della Corte dei Conti e della Presidenza del Consiglio. Evidenziamo anche che per questioni del genere il sindaco di Reggio Calabria Scopelliti si è fatto 4 anni e 7 mesi di carcere perché alterava i bilanci, alterava i conti consuntivi, alterava e gonviava le entrate al fine di continuare, di sprecare risorse e di fare clientele. Il bilancio non è una materia astratta, non si parla di freddi numeri ma si parla di come vengono spesi i soldi dei salernitani, di come le tasse che entrano nella carne viva delle famiglie di Salerno, le tasse stellari, le più alte d'Italia, vengono spese. Vediamo, i servizi sono pari a zero ma il disastro è sotto gli occhi di tutti. Anche i revisori dei conti oggi ci dicono che questo comune è in situazione gravissima, pertanto noi chiediamo le dimissioni del sindaco che non ha gestito in maniera diligente il danaro pubblico, dobbiamo avvertire i cittadini che pagano tasse per servizi pari a zero ma non si capisce come vengono spesi questi soldi. È un dramma e per questo noi da anni denunciamo che il bilancio delle vergogne di questo comune è l'emblema di come serve un cambio di governo della nostra città.